I genitori? Ce l'hai ma con ghiaccio nascondino Oh! No, per niente con i miei genitori Con la zia Grazia si gioco E che gioco fai con la zia Grazia? Tu per... Fa pure io riar tu e tu riarci E' vero! Che è invadito dagli occhi Davvero? Nel castello circondato dagli occhi E noi lo andiamo a salvare E appunto Diciamo che L'abbiamo abituato A non guardare la televisione E appunto Giocare o fuori molto all'aperto Magari in casa Leggere libri Prima che disegnare Credo che sia una cosa molto positiva Che i bambini Stiano il meno possibile Seduti davanti alla televisione Perché inibisce un po' Diciamo la loro fantasia Credo! 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 Credo!